Musica Anche l'Alto Adige parteciperà alla competizione mondiale per le migliori architetture ecosostenibili. Una delle più grandi aziende di lavorazione del legno della Val Passiria fornerà infatti materiali per il progetto dell'Università Roma 3 che rappresenterà l'Italia al Solar Decathlon in programma fine giugno in Francia. Rosita Rosa Entra nella fase finale il progetto Rome for Density, il lavoro curato dall'Università di Roma 3 che approderà a breve al prestigioso Solar Decathlon, un concorso internazionale tra le migliori 40 università dei 5 continenti al termine del quale verrà eletta la più efficiente architettura ecosostenibile del mondo. Ancora una volta la costruzione immaginata dagli studenti verrà messa appunto in Alto Adige presso il Rubner Center di Chianes in Val Pusteria. Il legno che servirà a costruirla viene tutto da questi boschi e nel cantiere i lavori sono già cominciati. Con il legno si riescono a fare case prefabbricate, performanti e anche piacevoli da vedere. Col cemento armato fare case prefabbricate, l'abbiamo fatta negli anni 70, è stato un disastro. Adesso il futuro del legno è proprio nella logica della prefabbricazione. A rimontarla a Versailles sul campo di gara della competizione internazionale ci penseranno direttamente gli studenti. In tutto sono 40. Gli studenti per noi sono patrimonio essenziale perché i giovani che sono formati bene possono garantire domani che la tecnologia del legno venga utilizzata a regola d'arte. L'appuntamento con la gara di architettura ecosostenibile è fissato per il prossimo 28 giugno.